Si è riunito stamane nell'Aula di Via Verdi il Consiglio Comunale di Napoli. All'unanimità è stato approvato il progetto definitivo dell'importo di 10 milioni di euro per il completamento del collettore fognario di Chiaiano Camaldoli. La seconda delibera, illustrata dall'assessore al patrimonio Sandro Fucito, è sull'affidamento in gestione dell'ippodromo di Agnano, approvata a maggioranza dall'Aula con l'emendamento della consigliera Cagliazzo sui lavori di ammodernamento della struttura nel rispetto della tutela del verde. A margine della seduta, che ha avviato la discussione sulle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, il sindaco Luigi De Magistris ha commentato lo stanziamento da parte della Regione Campania di circa 5 miliardi di euro di fondi europei. Questo è il risultato di un lavoro che si è fatto insieme. Ho detto più volte che il metodo era corretto, il metodo ha prodotto in questo caso dei frutti molto positivi. Sui fondi europei abbiamo raggiunto mesi fa l'intesa tra me e il Presidente De Luca, su quella intesa hanno lavorato i nostri uffici e questo lavoro ha prodotto questo risultato, che deve avere concretezza da parte della Regione nel elargire rapidamente, efficacemente, senza sosta ai soldi stanziati e da parte nostra rispettare sempre il nostro cronoprogramma che ci diamo nella spendita del denaro pubblico per tutte le opere la indicate. Quindi noi siamo soddisfatti perché si parla di metropolitana, di trasporto, di Napoli Est, di polo fieristico, di UNESCO, di riqualificazione di pezzi importanti della città, turismo, cultura, esattamente quello che io con più lettere avevo sollecitato e da questo punto di vista io posso esprimere soddisfazione. Adesso quello che è importante però è che questi soldi vengano dati in modo reale, effettivo. Alcuni traguardi sono stati raggiunti con un lavoro faticosissimo e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo obiettivo. Penso alla linea 6 che si stava per perdere definitivamente, un progetto secondo me anche molto sbagliato in sua origine. Oggi grazie alla sinergia tra la regione, il comune e la credibilità che abbiamo acquisito con il governo nazionale ma soprattutto con Bruxelles noi abbiamo messo non solo in sicurezza, la linea 6 sarà finita col finanziamento di tutta la tratta e così tutto il resto che avete letto che non sto a elencare. Quindi soddisfazione per il metodo e per il risultato.